the silver gate portal il portale d'argento al debaran gateway il portale d'argento della stella reale è proprio di questo che vi voglio parlare di questo particolare portale di fine maggio dal 27 al 31 maggio si apre un grande portale d'argento un portale che riguarda la stella al debaran ma vediamo qualcosa in più su questa stella reale è una stella appartenente alla costellazione del toro è la stella più luminosa della costellazione nonché la quattordicesima più luminosa nel cielo notturno è distante circa 66 mila anni luce dalla terra ed è una gigante arancione di classe spettrale circa 500 volte più luminosa del sole è una quarantina di volte più grande è veramente una stella speciale il suo nome deriva dalla parola araba al debaran che sta dietro significa in riferimento al modo in cui la stella appare nelle vicinanze e subito dopo l'ammasso delle pleiadi nel loro moto notturno al debaran è considerata una stella fortunata che apporta ricchezza e onori una stella che dicono porti molta fortuna quindi questo è un portale molto speciale oltretutto al debaran è una delle stelle una delle quattro stelle regali luminosissima una delle più luminose di grande superficie di temperatura non molto elevata insomma parliamo di questa stella non solo dal punto di vista fisico piuttosto metafisico parliamo del perché è importante in questo momento parlare della stella reale al debaran tra le stelle è una delle più amate soprattutto per le civiltà che la rappresentano o meglio che la abitano in un'altra dimensione e questo è un punto importante di cui dobbiamo parlare e soprattutto perché quando si apre questo portale si entra in contatto con i fratelli stellari che si occupano pensate della nostra ascensione di quello che viene chiamato il rapimento di quello che viene chiamato il prelevamento con il raggio trattore a tal proposito potete vedere sul mio canale il video intitolato proprio sogni di prelevamento perché in quell'esperienza ho raccontato esattamente che cosa è capitato oppure la live sulle ali del bruco sempre sogni di prelevamento che riguarda l'esperienza e tante altre persone che hanno avuto più o meno la stessa esperienza ma in queste notti vi potrà essere capitato o vi potrà capitare di sognare i fratelli stellari e di sognare una sorta di prelevamento di cavalcare i cieli su dei mezzi di locomozione inusuali come treni come grandi mitropolitane celesti o navi o qualsiasi cosa la vostra mente utilizzi come archetipo per rappresentare una nave stellare ma se la vostra mente aperta potreste proprio sognare di essere a bordo di una nave di una nave stellare di una nave dei fratelli galattici perché questi giorni tra il portale pleiadiano e questo portale d'argento di aldebaran succede veramente il contatto e le prove tecniche di prelevamento le prove tecniche di ascensione quindi questo portale è molto molto importante perché riguarda la nostra preparazione sia fisica che spirituale a questa ipotesi o a questa esperienza di prelevamento in questo momento maggio ci concede le sue ultime i suoi ultimi effetti se possiamo dire così perché a maggio abbiamo visto veramente molto abbiamo visto tantissime tantissime episodi se vogliamo dire così o tantissimi allineamenti tantissimi segni nel cielo e questo è l'ultimo del mese di maggio l'ultimo importante del mese di maggio che riguarda proprio dal 27 al 31 maggio quindi gli ultimi giorni di questo mese che sta per chiudersi infatti soprattutto il 29 il 31 maggio stasera vedremo questo portale aprirsi perché il sole si allinea con la stella reale e quando il sole si allinea con la stella reale al debaran si attiva un portale di energia ad altissima frequenza una frequenza argentea non dorata non aurea una frequenza d'argento alcuni astrologi si riferiscono a questo portale con il nome silver gate portal questo portale irradia energia che può pensate aprire il terzo occhio può affinare le nostre menti può approfondire la nostra intuizione può aumentare la nostra capacità di vedere ed è per questo che il 31 di maggio terrò un seminario il 31 sera proprio sull'apertura del terzo occhio decristallizzare scrossare attivare la nostra ghiandola pineale anche con l'aiuto di questa stella magica della stella al debaran si dice che al debaran sia il luogo di riposo delle anime subito prima che si reincarnino sulla terra in questo luogo di riposo l'anima ha la possibilità di riflettere sul motivo per cui sta venendo sulla terra e sulle lezioni che ne trarrà quindi noi cosa possiamo fare in questi giorni portale di questo portale d'argento possiamo incanalare questo tipo di energia possiamo incanalare questo spazio connettendoci con il nostro sé superiore e il contatto dell'anima ricordando che ogni esperienza è una lezione ben precisa quindi possiamo prepararci a ricordare le nostre incarnazioni le nostre vite precedenti consiglio di tenere con voi tutto ciò che vibra dell'argento consiglio di usare l'argento colloidale che io uso tutto l'anno praticamente perché è eccezionale così come l'oro colloidale e tutti i colloidali ma in questo momento l'argento colloidale oltre a purificarvi può mettervi in contatto con la frequenza di questo portale di questo portale d'argento di questo silver gate quindi argento colloidale argento da indossare argento da visualizzare mettete impostate la vostra la vostra frequenza sull'argento che risponde ad una frequenza del 6 di venere e quindi impostatevi su quella frequenza perché entriamo poi in giugno che il mese 6 che il mese di venere avremo la luna nuova di miele proprio luna di miele che trae proprio dal 9 lunio di maggio il suo nome avremo la luna piena la luna piena meravigliosa che la luna di fragola la luna di giugno ma questo a fine giugno all'inizio di giugno avremo la luna di miele che la luna nuova il portale di venere quindi rimaniamo sintonizzati su questa frequenza sintonizzatevi sulla stella aldebaran e preparatevi perché il mese di giugno non sarà un mese facile e io questo ve lo voglio dire con tutta la serenità del mondo ma ve l'avevo già detto e ve l'avevo già anticipato nel mio video 2024 all'inizio dell'anno in cui ho annunciato tutto questo tempo e siccome non c'è più tempo vi avevo fatto un video a febbraio in cui vi avevo detto andatevelo anche a trovare nulla dopo febbraio sarà più come prima perché febbraio apriva l'anno del drago e iniziavano una serie di eventi a catena ma soprattutto a livello energetico come le crisi poi ad aprire e così via che ci portano a aprire il sipario in questo mese di giugno proprio così il mese di giugno si inizia ad aprire il sipario il sipario che sarà aperto da qui a fine anno e coinvolgerà anche il 2025 e il 2026 questi tre anni ma soprattutto questa parte finale del 2024 con il 2025 e 2026 ci riguardano tutti direttamente tutti perché soprattutto dal mese di ottobre che è un mese particolare in cui vi è il karma 8 vi sono dei giorni 8 karma 8 come il 17 ottobre il 8 di ottobre il 26 ottobre ci sono le elezioni negli stati uniti ci sarà un'altra eclissi ci sarà il passaggio di un'altra cometa preparatevi perché questo fine anno sarà esplosivo ci hanno concesso del tempo ci hanno concesso più tempo ma questo tempo sta per finire il velo è lacerato la luce incomincia a entrare da quegli strappi del velo le informazioni solari in questo momento sono radicali avete visto che io sto facendo un po più di silenzio perché sono in download di queste nuove informazioni ma i tempi finali giungono e quindi tutto è ora in accelerazione e da giugno in avanti inizierà il final countdown quindi abbiamo avuto tutti del tempo per elaborare questo concetto per elaborare l'anno di saturno l'anno nel vento del cambiamento ve lo dissi appunto nel video a febbraio dopo febbraio nulla sarà più come prima ricordate perché adesso quello che è stato annunciato incomincerà a manifestarsi e di tempo non ce n'è più giugno sarà un mese nudo e crudo sarà un mese senza più veli questo squarcio nel velo farà penetrare queste informazioni solari radicali in maniera molto più impattante sulle nostre vite sia a livello individuale che a livello collettivo quindi la verità verrà allo scoperto ve l'ho detto anche nella lunazione scorsa questa energia compressa nella terra deve trovare modo di venire canalizzata altrimenti esploderà esploderà in maniera molto violenta quindi dobbiamo prepararci per altri movimenti della terra dobbiamo prepararci per altre esplosioni vulcaniche o tsunami ma tutto quanto è in divenire quindi noi possiamo cambiare le linee temporali perché sono tante sono ancora intrecciate e possiamo modificarle con la nostra consapevolezza e il nostro agire perché se il mese 6 e il mese di venere è la madre che può sculacciare il figlio per educarlo noi dobbiamo pensare che prima di ricevere le sculacciate dalla mamma forse possiamo apprendere la sgridata che le precede quindi se il cielo ci sta sgridando tra virgolette sempre c'è la mamma ci sta riprendendo amorevolmente prima che arrivi a sculacciarci abbiamo del tempo per agire e cambiare il nostro comportamento ma è chiaro che i prossimi due anni compresi questi ultimi mesi del 2024 questa ultima metà la seconda metà del 2024 cambieranno radicalmente le nostre vite perché questa è la resa dei conti tante verità verranno la luce questo ve l'ho già detto ve lo continuo a dire perché tutto verrà smantellato e la luce porterà dalla la verità farà scoperchiare i coperchi che ci sono stati chiusi per nasconderci le amare verità qualcuno è già preparato noi siamo già preparati da tanti anni a queste verità che emergeranno prepotenti e che non lasceranno spazio a come si può dire attirare il fiato perché questa energia compressa va liberata questa forza va liberata esploderà in un modo o nell'altro o attraverso la guerra o attraverso le catastrofi dei vulcani e delle acque delle terremoti della terra o attraverso un grande una nuova pandemia o attraverso io ho fatto un sogno che vi dovrò raccontare in cui vedevo arrivare dal porto delle navi che ormeggiavano che arrivavano nelle nostre zone italiane e da queste navi scendevano degli uomini e delle donne di colore che rappresentavano l'africa nel loro bigliamento nel loro nei loro colori e vi erano con loro delle zanzare che pungevano le persone ed erano purtroppo letali e si formavano sulla terra delle cupole di cristallo io e il mio marito andrea entravamo in queste cupole mentre tutte le persone erano in panico corrivano per le strade scappando da queste zanzare ma cadevano a terra ma noi nelle cupole eravamo assolutamente al sicuro avevamo dell'ossigeno nulla ci poteva capitare ci potevamo muovere con queste cupole di cristallo credo che il sogno sia estremamente simbolico che non riguardi nello specifico una pandemia o il morso delle zanzare ma riguardi piuttosto qualcosa che sta per avvenire e chi è protetto dai fratelli galattici o è consapevole sta sotto queste cupole di cristallo chi ha fortificato il proprio corpo di luce e ha sviluppato questa cupola di cristallo è assolutamente protetto quindi noi sappiamo che nelle linee temporali c'è un'esplosione che può riguardare a livello bellico la guerra che può riguardare un altro virus che può quindi un'altra pandemia che può riguardare una forza esplosiva nella terra attraverso gli elementi ma le linee temporali possono cambiare si può andare in un'unica direzione sono tante opzioni e questa è quantistica e fisica quantistica ma noi possiamo direzionarci in un'unica e non unica linea temporale ma le linee temporali continuano a cambiare in funzione di quello che noi cambiamo nel qui e ora nel passato e nel futuro e noi sappiamo che il tempo non esiste i viaggi nel tempo sono consentiti i nostri fratelli grafici già lo fanno viaggiano avanti e indietro nel tempo cambiando le nostre linee temporali intervenendo sui disastri che noi andiamo a causare e cambiando il nostro futuro quindi noi possiamo ottenere questo cambio a seconda del nostro comportamento se meritiamo di essere salvati di non avere più delle linee di dolore per svegliarci ma ci svegliamo in un altro modo non sarà necessario passare attraverso quel parto doloroso ma le doglie saranno molto meno dolorose e il parto di madre terra sarà il più possibile naturale senza epidurale senza lacerazioni senza sanguinamenti eccessivi e quindi senza emorragie insomma avete capito che cosa intendo se noi cambiamo il nostro atteggiamento ed entriamo veramente in una linea di risveglio allora questo scatterà una compassione dall'universo intero che ci aiuterà a passare attraverso questo cambiamento in maniera molto meno dolorosa più indolore è chiaro che il mese di giugno apre le danze a nuove energie l'impatto dell'eclissi che abbiamo avuto ad aprile l'otto di aprile incomincerà a manifestarsi perché vi ho già detto che si manifestano tra le otto e le dieci settimane dopo l'eclissi quindi chi pensava che le energie non si sono mosse perché non ha visto degli effetti fisici dovrà ricredersi perché queste energie hanno lavorato nei piani sottili e adesso si manifesteranno nel piano fisico ed è per questo che ci dobbiamo preparare ci dobbiamo preparare a tutto quello che può avvenire da qui al 2026 perché ci saranno cambiamenti epocali noi sappiamo che a ottobre gli stati uniti saranno protagonisti sia da maggio a ottobre e a ottobre in particolare con le elezioni e questo sarà un innesco un innesco alla guerra al crollo finanziario al crollo petrolifero del gas e quant'altro perché quello che accadrà a ottobre sarà senza precedenti senza precedenti ci saranno portali che si aprono ci saranno ci sarà un'altra crisi ci sarà il passaggio della cometa e quindi questo portale che si apre oggi questo portale d'argento è un'opportunità più unica che rara per cambiare queste sequenze temporali per cambiare la linea del tempo le linee temporali e per passare in un a questo nuovo tempo in maniera meno dolorosa ed ecco perché io vi faccio questo video che sento urgente sono in download di informazioni continuo a ricevere nuove informazioni dal sole nuove informazioni su questi portali molto importanti perché danno ingresso a energie di altre realtà e che ci donano la possibilità di utilizzarle qua quindi connetterci con delle dimensioni superiori e noi necessariamente fratelli e sorelle dobbiamo cambiare la nostra frequenza dobbiamo aumentare la nostra frequenza impostarla sulla prima la frequenza d'argento che ci viene data a disposizione ora poi la frequenza dorata poi la frequenza di platino dobbiamo crescere in frequenza per impostarci sulla nuova realtà e sulle nuove realtà di quinta dimensione che dal 2019 aprono portali continuamente per spingerci verso una nuova terra per uscire dalla matrix in cui siamo ancora immersi in questa simulazione che si sta finalmente questa quest'insieme di pixel si stanno finalmente rompendo se vogliamo usare questo termine quindi si stanno vedendo si sta vedendo oltre il velo stiamo uscendo dalla matrix stiamo entrando nel paradiso in terra quello vero quello che dobbiamo portare sul pianeta quindi fratelli e sorelle con tutto il mio cuore io vi dico concentratevi in questo silver gate portale concentratevi sulla luce d'argento entrate in questa sera farò poi un video dettagliato sulla luna di miele quindi il 9 lunio del 6 giugno 2024 che è un 666 ma che non è quello che voi pensate ma è un qualcosa che riguarda venere e la luna la luna nuova in questo caso che seminerà i semi per la luna di fragola di fine giugno ci porterà a giugno al solstizio d'estate e dopo il solstizio d'estate veramente non avremo più tempo di tirare il fiato perché le forze micheli che entreranno in campo l'energia di fuoco di michele scenderà sul pianeta e non avremo più tempo di fermarci a riflettere ma dovremo agire scusate l'impeto nella mia voce o forse anche questo correre ma sento prepotentemente questa comunicazione arrivare e lavorare dentro di me quindi il messaggio vi arrivi in questa volta nudo e crudo e anche in frequenza perché lo sto ricevendo proprio in questo momento quindi lavoriamo al meglio insieme incanaliamo questa energia esercitiamoci a incanalarla il 31 se volete unitevi a me nel seminario online sulla gli occhi di luce quindi prestarvi i miei occhi per farvi avere una nuova visione aprire scrostare attivare la ghiandola pineale che hanno cercato di addormentarci incrostarci e non farci vedere iniziare a vedere iniziare ad andare oltre e soprattutto associarci a uscire ecco associarci a un collettivo dei fratelli galattici che ci farà uscire dalla matrix preparatevi in queste notti per i sogni lucidi e sogni con i fratelli galattici chiamateli ditevi che siete a disposizione che non avete paura se volete un contatto con loro e rendervi conto del prelevamento perché molto probabilmente molti di voi sogneranno questi mezzi di trasporto tra le nuvole io ho sognato un grande treno e una volta un grande sommergibile un'altra e poi vere e proprie navi quindi preparatevi perché questo vi aiuterà a a guardare ciò che sta dietro come il do il nome di aldebaran la parola araba ciò che sta dietro che sta dietro quindi aprire la vostra visione dietro dietro la matrix dietro l'insieme di pixel che ci proiettano e nella realtà fittizia in cui vogliono farci vivere per non farci vedere la verità ma siccome questa stella e il mese di giugno scoperchierà i coperchi e ci mostrerà la verità tutta intera allora prepariamoci insieme con questo portale d'argento e con questo vi amo vi benedico e vi saluto dal profondo del mio cuore con la luce argentea della luna con la luce arancione della stella aldebaran mettetevi nella posizione di spostare la vostra frequenza vibrazionale e tutto andrà bene grazie a tutti